Stami lontano! Perché? Io voglio tornare a camera mia. Perché? Perché? Perché sono molto confusa. Ti scorgiuro, ti chiedo solo cinque minuti per pensare. Tu hai avuto tempo tutta la tua porca vita per pensarci sopra. A cosa vuoi che ti servono altri cinque minuti ora? Stami lontano. Ti prego. Oh, ma che ti fa niente? Stami lontano! Wendy, tesoro, luce della mia vita, non ti farò niente. Si può che devi lasciarmi finire la frase. Ho detto che non ti farò niente. Soltanto quella testa te la spacco in due. Quella tua testolina te la faccia a pezzi. Stami lontano! Non toccare! Non ti faccio niente. Non toccare! Fermati con la mazza. Via! Metti via quella mazza. Via! Wendy, dammi la mazza. Via! Dammi la mazza. Vattene! Dammi la mazza. Vattene via! Smettila con quella mazza. Ti prego, basta! Dammi quella mazza. Via! Via! Dammi quella mazza. 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 Grazie.